Brava, veramente congratulazioni bellissime, un'interpretazione straordinaria e ora il Pasolini l'enterato, io direi di cominciare da Paola De Lorenzo e poi Maria Ronca, diamo anche per ogni motivo la parola alla dottoressa De Lorenzo e poi subito dopo interverrai. Io a dir la verità sono un po' emozionata perché io non sono una critica letteraria e quindi neanche una critica poetica, in effetti scrivacchio poesie e quindi è proprio tramite la poesia che mi sono avvicinata a Pasolini perché diciamo non era uno degli autori miei preferiti, invece poi leggendo le sue poesie ho scoperto una purezza di sentimenti e un attaccamento alla tradizione ma soprattutto una disperazione e un'angoscia che lo hanno reso di capo quasi simile alla mia perché anche per diverse ragioni ci può albercare nell'anima umana la disperazione. Però alla base della poesia di Pasolini per inquadrarlo, perché io tratterò un poco più della poesia, dobbiamo riportare alcune sue frasi che saranno poi su cui si baserà la sua poesia. Non costruire la vita come fosse un'opera d'arte, ma l'opera d'arte come fosse la vita. Nello sviluppo del mio individuo, della diversità, sono stato precocissimo. Non mi è successo di gridare in un drasto sono diverso dagli altri, con un'angoscia inaspettata. Io l'ho sempre saputo e questo sentimento di diversità, coscienza della propria omosessualità diventerà in effetti la base della poesia, della sua poesia. Quando poi lui alla fine rimase, non si trovò più con la realtà, ebbe un sento quasi di rifiuto per tutto ciò che lo contornava, disse nel fondo di me, resta, solido come quarzo, un senso di venerazione per la poesia, poesia intesa come vox clamantis in deserto. Adesso, a quarant'anni, adesso facciamo un po' di esclusione, a quarant'anni dalla sua morte è stata rivalutata in effetti tutta l'opera di Pierpaolo Bacolini, ed è che viene considerato tra i più grandi intellettuali, poeti e scrittori del Novecento. Fu un grande amico di Moravia, con cui dirigerà la rivista Nuove Orizzonti. Però lui fu uno scrittore molto diverso da Moravia, perché per Pasolini la cultura era in ogni momento intervento nell'attualità, modo per affermare esigenze di valore universale riguardanti sempre la realtà. A differenza di Moravia, che si annoiava ed era e scriveva con una sistematica metodoscità i suoi romanzi, Pasolini invece era sempre immerso nella sua creatività, bruciava l'esperienza nella parola, e scriveva perci dovunque si trovava, dappertutto. L'opera postuba di Pasolini, appunto, Petrolio, è accompagnata appunto da una lettera di Moravia, in cui Moravia indicava il carattere problematico di quest'opera, definendola addirittura angosciosa e terribile. Come abbiamo detto, Pasolini nasce a Bologna nel 1922, da suo padre Callarberto era un tenente dell'esercito, però ha avuto con Pasolini e lui con i padri sempre un rapporto conflittuale, contrastato. Tanto è vero che lui si attaccò così tanto alla madre che si può dire che la sua omosessualità derivi proprio dal rapporto con il padre conflittuale che preferiva il fratello Guido e il rapporto edipico con la madre che poi sarà quello che poi diventerà, per cui lui poi diventa così omosessuale. Lui andò in giro per l'Italia, andava perché il padre era ufficiale di carriera, però passavano tutte le stadie a Casarsa, in questo paese friulano dove era nata la mamma. La mamma si chiamava Susanna Colussi ed era una maestra elementare. Amò questi luoghi, questi uomini di Casarsa, di una bellezza che erano di una bellezza pura, li amò così tanto che nelle sue poesie essi di frequente si trovano di frequente. Infatti lui con le poesie a Casarsa, una raccolta in dialetto friulano, esordisce nel panorama poetico italiano. Esse racchiudono forse i momenti più alti della sua poesia, che poi ed erano di una dolcezza e di una musicalità straordinaria questi là. Queste poesie poi saranno incluse nel libro più noto La Meliardo dei Dotti. Egli in queste poesie con nostalgia ricorda delle sue prime esperienze di vita e soprattutto l'amore verso la madre. L'amore verso la madre ritorna sempre e con frequenza in tutte le sue opere poetiche, da l'usignolo della Chiesa cattolica, ha poesia in forma di rosa. La madre addirittura è vista sempre come una fangiulla, la cui bellezza assume i caratteri di un ragazzo. Si stabilisce poi con la mamma a Roma e qui l'imbatto con questa città così violenta e carica di vitalità porta a una svolta nella sua vita e anche nella sua scrittura. È una svolta. È una svolta. Però mentre lui scrive saggi e poesie e articoli sul giornale si nota sempre in lui una grande contraddizione perché c'è un desiderio di purezza assoluta, di valori forti legati alla tradizione contalina e la sua omosessualità che gli impone un rapporto con la realtà sotto il segno dello scandalo e dell'immunità. E poiché egli cerca sempre nuovi incontri nei luoghi più degradati del tessuto sociale, egli in effetti trova sempre nuove occasioni di confronto tra il mondo intellettuale e la vita quotidiana, ma soprattutto avverte le profonde trasformazioni nel passaggio dalla civiltà contadina a quella che deve essere consumistico. Una parabola che porta a lui che non era ancora pronto dalla campagna friulana alla degradazione urbana delle periferie romane degli anni 70. Ma soprattutto a lui lo indignano i caratteri che assume il consumismo e il fatto che essi deturpi l'aspetto urbano e naturale dell'Italia e cos'esso si stia modificando anche il carattere degli italiani. Il prollono gli antichi valori tradizionali e si diffonde in tutte le classi sociali un etonismo spicciolo, egoistico e criminale. Tra i responsabili di tale degradato Pasolini indica la televisione e le scuole di massa come modelli di insolenza e spietatezza, soprattutto nei giovani. Ma lui ancora più grave è il progressivo adattamento a questa degradazione, l'attitudine sempre più discusa a considerarla normale. Quindi è stato un precursore dell'eterna società che nessuno fa male, tutti rubano, tutti pensano che sia normale. Pasolini però sa che non può tornare indietro e perciò si accanisce a distingue del bene e dal male, lo fa urlando sui giornali, contro l'intera classe politica, contro il potere, offendenti e corrupti. Ma anche contro la stessa classe intellettuale. Contro la classe intellettuale. Ma poi all'improvviso, non all'improvviso, ma poi a un certo momento lui soccombe a questo degrado, dice non c'è più niente da fare e dirà una frase che forse è la più bella per me. Non c'è più niente, oltre la natura, di questo mondo umano che io ami. Ecco come abbiamo detto, egli sperimenta negli anni i generi più diversi, dalla poesia al racconto e al cinema. La sua raccolta più significativa di poesia sono le cenere di Gramsci, con cui vinse anche il premio Piareggio del 57. Qui il suo stile diventa colloquiale ed egli in un drammatico colloquio con l'urna funebre di Cane di Gramsci, minucotetica, passeggiata nel cimitero del testaggio, esprime tutta la sua disperata passione di essere al mondo. In questi versi il poeta guarda al passato, per cui la disperazione prima si legava alla speranza, invece adesso, questo nel tempo suo, odierno, tutto si sviliva. Anche la tradizione politica della sinistra si era piegata anche allo sviluppo capitalista. E quindi lui si toglie anche dal lì, non ama più la politica. Tra i racconti autobiografici più importanti, che poi sono usciti i postumi, c'è l'amado mio. E mentre in questo appare la sua diversità, quasi un'innocenza, negli altri volumi, dagli occhi azzurri, una vita violenta e soprattutto ragazzi di vita, lui si immerge totalmente in questo degrado. Ma in tale degrado, in effetti, lui ritrova l'autenticità e la bellezza del paesaggio friulano. I personaggi di questi romanzi parlano un dialetto romanesco molto di basso livello, che meglio fa risaltare la loro difficile esistenza. Scriverà ancora poesie e nel 64 pubblica la poesia in forma di rosa, dove è contenuta la lirica più conosciuta e più bella di Pasolini, supplica mia madre. Non so se la posso leggere. supplica mia madre. È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è stato sempre, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile, per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di coppi senza anima, perché l'anima in te sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso, atto irremediabile di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita, sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, oh ti supplico, non voler morire, sono qui solo con te in un futuro aprile. bellissima.